Il centro storico di Cortona all'insegna dei fiori, del rame e degli esemplari di Porsche. È davvero una gioia vedere Cortona in fiore, con espositori di fiori e di rame, con tantissima gente e siamo davvero soddisfatti. Dopo il rinvio della scorsa settimana, Vivaissi ed Artigiani hanno infatti trasformato in giardini Piazza Garibaldi, Piazza della Repubblica e Piazza Signorelli. Al parterre, invece, 60 Porsche. Si tratta della quarta edizione della manifestazione, promossa dall'amministrazione comunale ed organizzata da Confesarcenti in collaborazione col Consiglio dei Terzieri. Stiamo lavorando per una promozione continua su Cortona, tant'è che possiamo vedere un aumento esponenziale anche di turismo, a partire dai numeri del nostro Museo Maiche, ma non solo. Quindi la nostra promozione, che perdura ormai da tempo, ha portato i risultati e sta portando i risultati. Cortona è davvero ammirata in tutto il mondo e gli eventi che stiamo organizzando, aspettando anche la mostra Signorelli, che verrà inaugurata nel 23 giugno 2023, sarà un altro evento ancora per far alzare l'asticella.